Maion alla fine vince Sassari di 10 gol, innanzitutto già è un punteggio diverso rispetto alla gara di andata quando Sassari vinse di 20. Però al di là del punteggio in sé per sé, insomma c'è da essere soddisfatti soprattutto per qualcosa visto nel corso della prima frazione. Ma sì, guarda, forse per come abbiamo giocato poteva essere anche un po' il divario più piccolo, forse anche troppo ampio. Però gli ultimi minuti i miei ragazzi hanno un po' mollato, hanno visto che la partita era andata e Sassari invece è stata brava a aumentare il divario. Però a parte questo direi che abbiamo fatto 40 minuti buoni dove Sassari ha giocato a pala a mano per stare in gara e questo è buono. Io vedo il livello della nostra partita, lo giudico anche da quello che fanno gli avversari. Quando vedo gli avversari che si impegnano al massimo per poter giocare contro di noi, io sono contento. Credo che oggi Sassari per 40 minuti l'ha fatto e noi siamo stati in partita. Poi gli ultimi venti un po' di rotazioni, un po' di stanchezza, però va bene. Posso ritenermi soddisfatto. Hai provato tra l'altro anche nuove soluzioni, soprattutto in fase di attacco. Per esempio quando è stato preso a uomo Manolovic, hai cercato di girare un pochettino meglio i giocatori per liberare l'uomo. Molte palle anche per il pivot. Andreotta che si è procurato un paio di rigori, ha dato anche un paio di soluzioni pulite su palle da partite terzini. Hai cercato anche di trovare soluzioni diverse quando c'è un avversario che provare a trovare le contromisure. Noi in settimana proviamo tutto. È chiaro che io mi aspetto che qualcuno può marcare Manolovic a uomo perché è la nostra punta di diamante. Non era mai successo fino ad ora. Adesso che è successo ci siamo fatti trovare pronti, ma perché lo proviamo in settimana? Diciamo che sì, come hai detto tu, tanti nomi, tante cose buone, ma ti assicuro che ho visto anche tanti piccoli dettagli che vanno rivisti settimana perché facciamo errori veramente banali e se riusciamo a limitarli, perché chiaramente non è che li possiamo cancellare e pretendere che i ragazzi di 17 anni li cancellano, ma limitarli dobbiamo farlo. Se ognuno riesce a toglierci due o tre errori che fa, il divario diminuisce. Io voglio solo questo. Infatti credo che in settimana lavoreremo su questo. Questa partita non abbiamo vinto facile, abbiamo vinto al finale del secondo tempo. Mi ha piaciuto molto la squadra di Campus. Se nota che sta bene allenata, se nota che i ragazzi lavorano bene, forza, pesi, dopo con pala. Mi ha piaciuto molto. C'è giocatori interessanti che a corto e lungo plazzo possono essere buoni giocatori. Per noi era importante questa partita. Questi partiti contro questo tipo di giovani sono un problema di fiducia e di mentalità, di testa, di arrivare al campo con la testa posta nella partita, di concentrazione e niente più. Fare puntati verso le prime quattro piazze del campionato, quelli che portano i play-off. Insomma, avete lanciato l'attacco a Fasano e Conversano, che sono le scuole più vicine in classifica a voi, no? Sì. Mi parola è sempre uguale. Partita, partita. Partita, partita. Now, adesso, prossimo partito Carpi, prossimo partito Siracusa. finiscono il febbraio, dopo due settimane di riposo per la nazionale, dobbiamo vencere i quattro punti. Però, primo partito Carpi, dopo guardiamo la classifica, a vedere dove stiamo. Rossi, arriva una sconfitta contro il Sassari, ma, insomma, soprattutto nel primo tempo, avete provato, insomma, a tenere testa una formazione molto più quotata che, appunto, a un campionato di vertice. Sì, sicuramente è stata una partita tirata all'inizio. Abbiamo perso un po', diciamo, forse di stanchezza, forse non abbiamo corso abbastanza nel secondo tempo. Però, diciamo che il primo tempo è stato abbastanza tirato. Il secondo tempo ci siamo fatti andare. All'andata a Sassari perdeste nettamente di 20 gol. È stata la sconfitta un po' più pesante in quest'annata. Quest'oggi, insomma, le cose sono cambiate. È cambiato quindi anche un po' il modo di affrontare questo avversario e gli altri avversari, insomma, da parte del campus, a distanza di qualche mese? Sicuramente siamo migliorati, abbiamo preso più fiducia in noi stessi e questo è stato dimostrato oggi, diciamo, con un'netta differenza di reti. Bronzo, due punti importanti in classifica per voi che seguono anche i due punti con cui siete a tavolino in settimana. Insomma, state lanciando la volata, la rincorsa delle prime quattro piazze. Soprattutto nei confronti di Conversano e Fasano che sono le due scuole più vicine a voi in classifica. Sì, diciamo che era importante vincere oggi perché comunque dobbiamo dare continuità anche dopo l'eliminazione della Coppa Italia che ci ha fatto un po' male. Sapevamo che i ragazzi hanno voglia di correre, infatti hanno corso per tutti i 60 minuti. Noi siamo venuti qua un po' contati per alcuni accecchi fisici, però alla fine sì, abbiamo preso 30 gol, però comunque abbiamo dimostrato a Sprazi di essere una buona squadra. Dobbiamo continuare su questo percorso e cercare di chiudere febbraio con solo le vittorie, cercando di vincere in casa con Carpi e poi a Siracusa. Primo tempo un po' più equilibrato e poi nel secondo tempo avete preso in largo? Sì, diciamo che all'inizio loro hanno corso molto quindi secondo me ci ha messo quello un po' più in difficoltà essendo noi più pesanti di loro e comunque l'età c'è di differenza con alcuni elementi della nostra squadra. Comunque penso che poi abbiamo fatto uscire un po' più di esperienza rispetto a loro, abbiamo sistemato un po' di cose negli spogliatoi e il risultato 40-30 ci va bene anche se potevamo perdere meno palloni e avere uno scarto ancora maggiore.